Appeso il via, anche in Liguria, la raccolta firme sulla petizione Coldiretti hashtag stop cibo falso indirizzata al Parlamento europeo e finalizzata ad introdurre l'obbligatorietà dell'indicazione del paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, in modo da permettere ai consumatori di conoscere da dove arriva il cibo che portano ogni giorno in tavola. Si tratta di una mobilitazione popolare sostenuta da Coldiretti e Campagna Amica nei confronti dell'Unione Europea per fermare il cibo falso e proteggere la salute, tutelare l'economia, bloccare le speculazioni e difendere l'agricoltura italiana. Infatti, nonostante i passi avanti fatti sulla via della trasparenza e tracciabilità, permangono ancora ampie zone d'ombra e ogni giorno rischiano di finire nel piatto alimenti di bassa qualità e origine incerta. A rischio fake, nel carrello della spesa, ha ancora un prodotto alimentare su quattro che non riporta obbligatoriamente l'origine in etichetta. Dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta al pane fino al latte in polvere per bambini.